E boom, abbiamo fatto breakout del livello di resistenza più importante dell'ultimo anno, anche due anni su Bitcoin, accelerazione in fase di close anche della settimana, breakout confermato in close daily sulla close della settimana, nuovo annuale di Bitcoin iniziato novembre 2022, annullata l'ipotesi da giugno e quindi annullata al momento l'ipotesi di nuovi minimi nel ciclo precedente del bear market, Bitcoin finisce il bear market 2022 a novembre 2022, è iniziato un nuovo ciclo, sarà un nuovo ciclo rialzista o ribassista, questa è un'altra storia perché ancora deve essere scritta ragazzi, ma questo ciclo non appartiene più al precedente bear market, al massimo ne farà un altro, ma non è assolutamente collegato al ciclo precedente. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, non vedevo l'ora di dirvi questa cosa, ma aspettavo ovviamente quello che erano le conferme di Bitcoin da un punto di vista di price action sui mercati, non era corretto appunto darvi la notizia senza che Bitcoin facesse questi breakout confermati in chiusura della settimana, era assolutamente evidente, come avevamo detto più volte, che questo minimo di novembre a meno di trucchi e trucchetti fosse il minimo dell'annuale di Bitcoin, per via del fatto che era stato tantissimi giorni al di sopra di questo minimo, altrimenti diciamo doveva iniziare a tentennare già un po' di tempo prima. Ha fatto il truffone la scorsa settimana, cioè il truffone di ribasso ragazzi, questo qui, che ha praticamente mandato in stop una serie di posizioni long, guardate che capolavoro da un punto di vista di manipolazione del mercato, totalmente difficile da comprendere e molti pensavano appunto alla reprise del ciclo ribassista, truffone gigantesco, poi ovviamente c'è stato lo zampino dei dati della Federal Reserve e di questo ne parleremo in settimana, perché tante cose sono cambiate da quel weekend ragazzi, ma farò un briefing in questa settimana dove racchiudiamo un po' tutti quelli che sono questi concetti in modo da avere delle idee molto chiare, ma c'è stato appunto questa classica manipolazione del mercato che ha preso una serie di stop sui long che erano stati impostati e poi boom, a lasciare fuori tutti quelli che non erano preparati, che non avevano i trading plan costruiti adeguatamente, più 45% in una settimana e qualcosa, dai minimi toccati e dai cacciatori di stop, così chiamiamoli, che hanno breccato questa zona. Difficilissima questa area qui, difficilissimo stare long in questo punto, solo con tecniche adeguate come trading plan scritti e trading system ragazzi, si poteva fare, oppure per fortuna magari qualcuno è rimasto a prescindere, ve lo assicuro, quindi anche se siete usciti e vi hanno fatto stop hunting in quella fase, ragionate e comprendete concettualmente che era molto complesso e soprattutto se non avevate la formazione adeguata e dei trading system e una serie di strategie che vi blindavano da questa possibilità, era molto difficile stare sul carro. Questo ragazzi perché i mercati in questi ultimi anni ovviamente un po' cattivelli sono diventati, quindi le cose facili che fino agli scorsi anni andavano avanti non erano, non credo che saranno replicati con questa grande facilità. Sennonché questo minimo rappresenta anche un fantastico point per gli amanti dell'holding di cui abbiamo parlato un po' di tempo dove vi indicavo che l'holder intorno ai 21 sostanzialmente, siamo scesi anche più giù, doveva in pratica comprare e poi ti saluto, cioè doveva mettersi a metà tra l'ultimo minimo e l'ultimo massimo che era esattamente questa zona qui e questa zona qui a mettersi a metà in questa zona intorno ai 21 e dire vabbè io sto qui, poi si vede se rompe il minimo di novembre bisognava uscire ma altrimenti l'holder ragazzi ha fatto i suoi giochi. Si sta dentro, nuovo ciclo di bitcoin, andiamo a vedere cosa significa, andiamo a vedere cosa è cambiato, oggi un video solo bitcoin, dedicato a bitcoin, quindi breakout della resistenza importantissimo perché elimina completamente una serie di dati. Quello che sta succedendo non è una cosa che va presa sotto diciamo una semplice volatilità ma è cambiata anche una logica perché l'immissione macroeconomica della Fed ha modificato alcune cosette e bitcoin l'ha presa molto molto bene ragazzi, va bene? Allora facciamo così, iniziamo dalla struttura ciclica di breve periodo, poi andiamo a quella invece di lungo periodo che mi preme farvi vedere perché è iniziato anche un ciclo quadriennale su bitcoin, ve ne ho parlato dall'inizio dell'anno, ne ho parlato un po' mettendovi la pulce nell'orecchio, la conferma è arrivata anch'essa sul breakout proprio di quel livello di resistenza. Allora andiamo per gradi ma prima ragazzi volevo anche farvi vedere questa cosa altrimenti poi mi dimentico i dati macroeconomici di questa settimana sono dei dati macroeconomici interessanti ma non complicatissimi c'è però una giornata clou che secondo me però non lascerà, sono sincero, chissà che c'è perché secondo me è un po' scontato. Cioè ragazzi il fatto che il 22 mercoledì ci sarà la conferenza della Fed con la decisione del tasso, tasso che a mio avviso sarà sostanzialmente alzato dello 0,25 perché la Fed non modificherà quelle che sono le questioni legate alla sua politica fiscale, scusate, la sua politica anti-inflazione relativa a causa diciamo delle problematiche di questi ultimi periodi sulle banche. C'è da dire che però i mercati sono un po' incerti, vedete perché nel classico grafico che andiamo a guardare sulle attese degli istituzionali per il rialzo dei tassi del 22 di marzo, quindi mercoledì prossimo, quindi questa giornata qui, vedete che abbiamo quasi un 40% che si è spinto su un non rialzo dei tassi. Io sono propenso per il rialzo di 0,25 ma casomai la Fed non dovesse alzare i tassi di interesse, magari andando a dire che le questioni legate all'inflazione sono migliorate e si aspettano comunque un miglioramento del tasso di inflazione senza un rialzo dei tassi che non serve in questo caso aspettatevi anche la questione legata ad un'impennata dei mercati perché essenzialmente la prenderanno bene. Poi ci sono una serie di dati, soprattutto quelli legati all'Europa perché la Lagarde dovrà parlare, c'è la questione Italia che ancora non è uscita fuori. Ne parliamo in questa settimana ragazzi perché non è così semplice parlare di alcune cose, quindi ho raccolto una serie di dati, voglio farvi un video questa settimana proprio che parla di queste cose qui. Quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale anche perché sono dati che penso servano veramente a tutti quanti. Allora detto questo, mercoledì giornata clou, il resto discorsi della Lagarde che però è intervenuta già dicendo che è iperpotente la BCE rispetto al 2008, le banche sono iperprotette, hanno una serie di bazooka, ma guarda un po', Bitcoin già lo sapeva, ne abbiamo parlato scorsa settimana che la BCE non sarebbe stata a guardare se la Fed faceva questa cosa e quindi già i mercati stanno scontando, ma non vi spoilerò niente perché ne parliamo appunto in settimana. Andiamo a vedere quelli che sono i dati immediatamente dell'analisi ciclica di Bitcoin, nuovo mensile iperpotente di Bitcoin che sancisce appunto lì alla fine del bear market, tra le altre cose. Siamo al decimo giorno di questa fase rialzista, solitamente ragazzi c'è una struttura ciclica che va in chiusura entro il 15, il 15 è più o meno sabato, quindi potrebbe anche essere che Bitcoin abbia fatto il massimo di periodo per questa zona. Potrebbe perché ragazzi, qui veramente parliamo di questioni che contano solo se siete trader dell'intraday, ma se siete trader anche swing della settimana non c'è nulla da fare, perché sostanzialmente il mercato è arrivato a un target price che non è detto che non sarà breccato, adesso ve lo spiego, ma il target price iniziale, quello di inizio anno, che avevamo anche mostrato nei primi video di inizio anno, che è questo qui, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Ragazzi, questo qui è arrivato, l'ha toccato, questa è la prima resistenza, 28.000 è qualcosa, è la prima resistenza dell'anno. Superata questa, ce n'è un'altra in questa zona, adesso ve la faccio vedere sull'altro grafico che è più facile, ma vediamo un po', perché alcune cosette rispetto all'inizio anno sono cambiate, perché la questione Silicon Valley Bank, la Fed, è quello che sta per fare la BCE anche in Europa, hanno cambiato un po' delle cosette, perché sono emissioni di liquidità e toccano soprattutto Bitcoin, piuttosto che l'intero mercato cripto. Andiamo a vedere questa questione qui, poi in settimana. Allora, 30 giorni, analisi ciclica, trend ovviamente è lungo ragazzi, neanche praticamente l'ha fatto, una struttura di ribasso, inutile dirlo, però siamo arrivati al primo livello di target, sia dell'anno, sia di questo movimento, perché questo movimento, da un punto di vista di analisi tecnica, trova qui una struttura di oscillazione, una barra di oscillazione che è molto importante. Quindi questo livello è anche lo 0,238 di ritracciamento del bear market di Fibonacci, è un buon livello ragazzi, ovviamente anche per concludere il mese di marzo, ve lo dico. Io ovviamente sono trend follower, quindi sto lì e continuo a seguire trend, non è che è inverto, però è ovvio che siamo comunque su un livello di pricing assolutamente adeguato, diciamo per concludere il mese di marzo, siamo andati anche oltre di, molto oltre, diciamo quelle che erano le strutture di volatilità. Al di sopra di questo livello c'è una prateria, perché ragazzi questa zona, tutta questa zona è vuota in termini di oscillazioni e di volumi. Il mercato è stato qui in questa zona di pricing, quindi fra i 28.000-29.000, questa zona qua, e i 35.000 circa, quindi 0,23 di Fibonacci, 0,38 di Fibonacci, c'è stato pochissimo tempo, cioè questa zona qui. Questo significa in gergo tecnico che non ha volumi, non ci sono volumi in quello spazio, perciò potrebbe essere catapultato, se dovesse breccare 28-29.000, potrebbe essere catapultato Bitcoin immediatamente al centro di questa zona di barra di congestione, questa zona qui, per poi puntare ovviamente alla parte alta. Parte alta che invece è molto rilevante, perché rappresenta il pullback di tutta questa fase, cioè il punto dove maggio 2022, caos, fallimento, luna e quant'altro, del progetto Terra Luna, il mercato avrà iniziato a effettivamente crashare, perché aveva invertito il trend della barra di congestione precedente, quindi questo livello 35 rappresenta il nuovo livello molto rilevante, qualora Bitcoin rompesse quello attuale. Quindi il primo livello attuale è stato raggiunto, se supera quel livello lì, potrebbe estendersi all'interno di questo rettangolino che vedete voi e poi iniziare a cincischiare un pochino, cioè stare qui dentro per un tot di mesi e iniziare a fare su e giù, magari tentare il breakout, poi riscende, insomma fa le sue cosette. Attenzione perché poi questo nuovo ciclo trimestrale che è iniziato porta una struttura semestrale intorno a maggio, quindi la possibilità di raggiungere un massimo nei mesi di aprile e maggio c'è ancora. La ipotesi, a proposito ragazzi, l'ipotesi complottista del minimo di maggio esiste ancora per alcune altcoin, come addirittura Ethereum ragazzi, per Bitcoin potrebbe essere un minimo relativo, perché maggio comunque è una fase in cui si chiude un semestrale, a prescindere, magari non è un minimo assoluto, in questo caso è molto difficile che avvenga, però potrebbe essere un minimo relativo. Però vi ricordo ragazzi che quella era un'ipotesi complottista di cui abbiamo parlato come alternativa, ma non era l'ipotesi che stavamo seguendo, no? Alcuni di voi non hanno, mi hanno fatto questa domanda, quindi lo specifico perché vi ho fatto quel video perché mi avete richiesto quel video più volte. Però su alcune crypto, come Ethereum per esempio, ancora resta la possibilità di un minimo, ma non è un minimo inferiore al precedente, è un minimo relativo, cioè significa che i mercati diciamo creeranno magari una struttura di riposo in quella zona lì. Poi bisogna vedere quale sarà il minimo. Ethereum non ha bisogno di fare un minimo inferiore a quello di giugno ragazzi, anche se l'ipotesi complottista venisse confermata. Va bene? Non ha bisogno perché il trend non ha mai breccato il minimo di giugno. Era Bitcoin che aveva questo problema perché aveva fatto un breccato il minimo di giugno, ma l'inversione sopra questo livello annulla totalmente quell'ipotesi. Quindi per Bitcoin un nuovo minimo al di sotto di quelli di novembre è molto difficile nei prossimi mesi. Tutto possibile, ovviamente, ma è molto difficile. Detto questo, il ciclo mensile naturale di Bitcoin si chiude a 10 di aprile, più o meno nella zona 10 di aprile, se non accorci, ma questo poi lo vediamo. Se fa una pausa di riflessione questa settimana, la prossima settimana potrebbe essere proprio quella buona per fare magari una struttura del genere e andare in breakout. Passiamo a quelle che è la situazione invece dei cicli di natura annuale. Allora, il ciclo annuale di Bitcoin, iniziato a novembre 2022, stancisce la chiusura per l'ennesima volta del ciclo di bear market, che era iniziato a luglio 2021, per quanto riguarda Bitcoin, Bitcoin, terminato a novembre 2022. Lunghissimo per un annuale, molto lungo, alcuni pensano anche che qui sia stata fatta una imperfezione ciclica, che si chiama lingua di buyer, ci può stare assolutamente, perché il ciclo è molto lungo, ma non ha molto senso in quanto ragionarci in quel modo, in quanto non serve a niente, in quanto sempre comunque una struttura ciclica inferiore è fatto, quindi o la appartiene al precedente, anomala o non anomala, questi sono i tempi ragazzi. Allora, guardate qui la struttura del ciclo ribassista, il bear market di Bitcoin, tre onde, molto belle, una classica struttura ciclica ha tre onde ribassiste, tre stringhe, quindi cinque totali, quindi vedete, una, due, tre, quattro e cinque, il finale poi piccolino, quindi uno, due, tre, quattro e cinque, questa zona qui. Molto bella questa struttura correttiva e, insomma, molto da manuale. Il superamento che avviene anche questa settimana, Time Frame Weekly, della media mobile a 52 settimane, quella che vedete qui, la media mobile annuale, sancisce totalmente la fine di questa fase, di questo movimento, quindi questo ciclo da novembre è un nuovo ciclo, poi che possa fare, come vi dicevo, una struttura in questo modo e andare qui giù nella fine dell'anno, è possibile perché, ragazzi, è un nuovo ciclo. Nuovo ciclo non vuol dire che sia un ciclo a forza rialzista, è difficile che sia ribassista perché è anche l'inizio di un nuovo ciclo quadriennale su Bitcoin, cioè quello del nuovo halving di Bitcoin, ma non è che sappiamo, insomma, il futuro, ragazzi, questo dovete iniziare a comprenderlo, quindi questo ciclo non appartiene al precedente. Il precedente finisce là, però noi non sappiamo da qui quello che creerà Bitcoin. Possiamo presumere che a livello di probabilità vada a disegnare un nuovo annuale che sarà di natura teoricamente rialzista o neutrale. Neutrale può significare che magari va a concludere un annuale intorno, non so, ai 20.000, 18.000, una cosa del genere, ma al momento, cioè non c'è nessun modo di prevedere questa cosa, è follia andare a ragionare su questa cosa, al momento bisogna seguire il trend e ragionare solo sulle tracce che il mercato va a lasciare. Vi faccio vedere che anche sul grafico alla weekly, che è fantastico per questo tipo di analisi di medio-lungo periodo, questo rettangolo è il punto naturale di arrivo di tutto l'anno, di tutto questo annuale, perché, insomma, corrisponde appunto 29.000 e 35.000, questa zona che vi faccio vedere, che vi ho fatto vedere prima, perché rappresenta anche, vedete, la struttura di pullback di questo swing, che poi è stato breccato nel caso di Luma, come vi ho spiegato. È vero che c'è questa zona qui, ma non ha molta importanza, perché appartiene al precedente ciclo di Burran, non all'ultimo del bear market, quindi il mercato sentirà di più queste zone più vicine, piuttosto che quelle del 2021 di mangio. Queste zone più vicine sono molto rilevanti, quindi questa è sicuramente un livello di resistenza molto importante, il successivo sarà questo, ma tutto questo rettangolo va tenuto in considerazione, quindi diciamo che i giochi stanno per essere fatti, probabilmente. Il superamento dei 35, inutile che ve lo dico, ragazzi, configura un annuale iper bullish per Bitcoin, con un probabile arrivo poi su questo nuovo livello di 48, quindi, insomma, iper bullish, una cosa del genere, sono sul primo annuale del ciclo dell'hubbing, non so, la vedo un po' difficile, tutto è possibile, trend is your friend, come sempre, ragazzi, poi dipende anche quanto la vettura, la BCE stampano, decidono di stampare. Vabbè, detto questo, allora, andiamo alla struttura della fine, vi do una data, febbraio 2024, questo annuale più o meno intorno a febbraio, avete capito che significa dicembre-marzo, no? Questa zona lì, fine anno. La fine anno potrebbe chiudere l'annuale, quindi magari andare a fare un massimo relativo anche a ottobre, se questo annuale sarà rialzista, ottobre-novembre, poi ci ragioneremo insieme, vedremo, però la struttura naturale ci porta poi alla fase di chiusura dell'anno, alla fine dell'anno, di quest'anno qui. Quindi, un anno positivo sembrerebbe al momento per i mercati delle criptovalute per Bitcoin e ovviamente un anno in cui c'è un totale e assoluto disinteresse per le criptovalute. Ma guardate un po', vannaggio alla miseria, per l'ennesima volta il segnale migliore di tutti è stato l'abbandono di molti retail, di molti che si erano avvicinati a questo mercato senza la minima formazione, senza la minima capacità di fare trading e di investire, che si sono allontanati hanno perso tutto, magari hanno anche chiuso le posizioni sui minimi e sono rimasti al palo, non c'era più nessuno, disperazione totale, abbandono totale del mercato e zitto, zitto, Bitcoin inizia il nuovo ciclo dell'Apig, il quadriennale. Vi faccio vedere anche questa analisi, è sempre così ragazzi, è il segnale migliore della storia. Andare a guardare queste cose è veramente impressionante, vi ricordate il video FOMOFAD, no? Quando vi ho fatto vedere quel video FOMOFAD, questo è l'annuale di, sono i vari annuali di Bitcoin, i cicli dell'albing di Bitcoin, 1400 giorni, 1430 giorni, come un orologio svizzero incredibile, 47 barre mensili, 47 mensili, anche qui il massimo dal minimo è stato toccato alla 35esima barra, il massimo dal minimo è stato toccato alla 35esima barra mensile, questo grafico l'ho mostrato anche nella Live Avengers con i ragazzi di CoinSquare, poi eravamo tutti insieme alla fine della Live, la trovate, poi magari faccio uno shot di quella Live lì ragazzi, dove mostro proprio in tempi non sospetti, eravamo a dicembre, mi pare, o gennaio, i primi gennaio, che Bitcoin aveva fatto questa roba qui, poi ovviamente poteva fare qualsiasi cosa, no? i mercati possono sempre fare quello che vogliono ragazzi, però è incredibile, un orologio svizzero, vabbè, detto questo, da qui ragazzi, vedete anche il breakout sulla candela mensile della media a 12 mesi, la media dell'annuale, quindi nuovo annuale al 100%, iniziato da novembre, questa è tutta la struttura del quadriennale di Bitcoin, il nuovo ciclo dell'albing, andiamo poi con calma, andremo con calma a comprendere quello che potrebbe essere, se doveste replicare questa struttura di 1066 giorni, 35 mesi per fare un nuovo massimo, i nuovi massimi saranno fatti a ottobre 2025, vabbè, questo però è ovviamente un copia e incolla, no? Però ragazzi, simpaticissima questa cosa da vedere, allora, auguri Bitcoin, sono contento di questa cosa, a prescindere di quello che verrà, abbiamo un nuovo annuale da novembre, siete riusciti a salire sul carro ragazzi, in Academy noi ci siamo riusciti ma con non poca difficoltà perché quella fase di stop-humping della scuola sistema è stata molto complessa, solo i trading system ci hanno aiutato, ve lo dico in maniera molto chiara e le strategie già programmate, per fortuna ci sono venuti in aiuto ma anche per quelli li ho creati ragazzi proprio perché non è facile mettere la testa in un determinato momento e i mercati sono bastardi, e ci prendono sempre in giro e si è visto lanci la moneta alla fine del video e si va ancora è sparito tutto ragazzi vi assicuro dopo ho detto questa cosa si è bloccato il computer vabbè allora detto questo ciao a tutti buon lunedì grazie a tutti